Ciao, eccoci oggi con la quarta riflessione ad alta voce. Prima di iniziare con la riflessione di oggi, è importante ricordare che queste riflessioni ad alta voce sono pensieri che fluiscono così, quindi non potrei magari sbagliare qualche verbo, quindi non portate molta attenzione su come dico le cose, in questo caso qua portate l'attenzione sul significato di ciò che dico. L'argomento di oggi è la responsabilità. La responsabilità insieme alla consapevolezza, insieme al credo e alla fiducia, insieme all'azione costante, insieme alla pazienza, è uno dei pilastri fondamentali dell'evoluzione personale. È importante ricordare che noi siamo responsabili al 100% della nostra vita. Spesso, quando ci accadono le cose, quando viviamo determinate situazioni, tendiamo a incagliarci sul pensiero perché ci accadono le cose. Le cose, le situazioni ci accadono perché dobbiamo imparare qualcosa, dobbiamo imparare a trasformare gli stati motivi per raggiungere la libertà e la felicità interiore che ci permette poi di raggiungere la libertà e la felicità esteriore. Quindi non è tanto importante comprendere perché arrivano le situazioni, ma è importante capire che cosa dobbiamo imparare e ovviamente che cosa dobbiamo fare per trasformare le situazioni. Ci sono, secondo mio avviso, tre livelli di responsabilità. L'iperresponsabilità, l'iporesponsabilità e la giusta responsabilità. Quindi la via di mezzo, la via che ci permette di evolvere. Quando noi pensiamo di essere iperresponsabili, quindi noi pensiamo di avere la maggioranza della responsabilità nelle situazioni, tendenzialmente rischiamo di creare il senso di colpa. Il senso di colpa è molto pericoloso perché ci porta nella situazione di non merito. Se pensiamo di non essere meritevoli, se pensiamo di avere la colpa delle situazioni, oppure pensiamo di essere colpevoli di quello che accade anche alle altre persone, come vi ho detto prima, rischiamo di metterci in condizione di non meritare le cose belle. Quindi non attireremo nella nostra vita le situazioni che ci fanno stare bene o quantomeno non riusciremo a percepire che magari dietro a situazioni difficili ci possono essere grandi opportunità. Poi invece c'è la fase di iporesponsabilità, dove noi invece crediamo di non avere nessuna responsabilità in quello che ci accade. E anche questa qui è una situazione molto pericolosa perché tendenzialmente andremo a dare la responsabilità alle altre persone, alle situazioni. E questa, come avrete compreso, è un atteggiamento che non ci può essere utile per evolvere. Perché se vivo una situazione difficile e incomincio a dire che è colpa di una persona, è colpa della situazione, non agirò sicuramente nella maniera utile per raggiungere ciò che desidero. E poi invece c'è la forma di giusta responsabilità, dove comunque io sono consapevole che sono responsabile dei miei pensieri, delle mie emozioni e delle mie azioni, ma sono anche consapevole che anche le persone che interagiscono con me, anche loro devono imparare qualcosa e devono diventare responsabili di ciò che pensano, di ciò che sentono e di ciò che fanno. Oggi vi voglio consigliare un semplice esercizio sulla responsabilità. Per farlo però dovete vivere il momento, dovete connettervi a qui e ora, perché uno dei tanti freni della sensazione di responsabilità, quindi del livello di giusta responsabilità, è proprio la distrazione. Quindi non essere connessi a noi stessi e non ricordarci che abbiamo la responsabilità della nostra vita, abbiamo la responsabilità di ciò che pensiamo, di ciò che sentiamo e di ciò che facciamo. Provate a prendere carta e penna, isolatevi dal mondo esterno, vivete qui e ora, quindi concentratevi e collegatevi a voi, alla vostra essenza e magari se state vivendo una situazione difficile, cercate di capire che cosa potreste fare meglio e che cosa potreste fare di più. E ovviamente cercate di comprendere quanto siete responsabili voi e quanto sono responsabili le altre persone. Questo è un esercizio che è apparentemente molto semplice, ma diventa difficile quando dobbiamo calibrare il giusto senso di responsabilità. Quindi senza, in maniera oggettiva e sospendendo il giudizio, cercate di prima di tutto capire che cosa è importante che voi mettiate in atto per trasformare la situazione e che cose invece devono fare le altre persone. Non accettate anche magari che determinate persone non si muovano nella vostra direzione e questo è fondamentale, accettare che non sono tutte uguali a noi e che magari le altre persone non vedono o non sono consapevoli del loro grande poter di responsabilità. Per parlare anche di responsabilità vi voglio fare un esempio che può essere capitato anche a voi o magari ne avete sentito parlare di relazioni di coppie dove non c'è armonia. Quando non c'è armonia è perché non c'è l'assunzione di responsabilità perché magari c'è una delle persone che tende a dare la responsabilità di tutto quello che succede all'altra e ovviamente nella logica dell'equilibrio l'altra persona tenderà a prendersi troppa responsabilità. Chi dà troppa responsabilità tendenzialmente utilizza il perché tu e dall'altra parte chi si prende invece troppe responsabilità tendenzialmente usa la parola perché io. Il giusto equilibrio tra responsabilità ovviamente favorisce buone relazioni di coppia ma favorisce anche buone relazioni interpersonali con le altre persone che possano essere colleghi, che possano essere responsabili, che possano essere collaboratori oppure dal punto di vista magari professionale il rapporto con i clienti, il rapporto con i fornitori. Dobbiamo comprendere che noi abbiamo responsabilità ma anche le altre persone hanno responsabilità. Lo so che, come vi ho detto prima, è un esercizio difficile però ricordatevi che se non ci ricordiamo e non siamo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nella creazione della realtà tendenzialmente non riusciremo mai ad ottenere ciò che desideriamo e saremo sempre in balia degli eventi e delle altre persone. Quindi fate questo esercizio. Se vi fa piacere le parliamo potete commentare questo video o magari mettete il vostro punto di vista, scrivete il vostro punto di vista al di sotto di questo video e anche se vi fa piacere magari trattare degli argomenti in futuro scrivetelo nei commenti e io prima o poi, nel senso, troverò il modo di accontentarvi. Detto questo vi auguro un buon fine settimana vi auguro di essere responsabili però ricordatevi che per essere responsabili dovete vivere qui ora ed essere collegati a voi e vi saluto e ci vediamo prestissimo per la prossima riflessione ad alta voce. Ciao a tutti e buon fine settimana.